il corridoio in punta di piedi non devi avere paura le rispondo la mia amica eli è dolcissima davvero ed esattamente da quando un'umana e un topo nemici mortali da sempre hanno fatto amicizia o circa una settimana fa ci siamo conosciuti davanti a una torta di briciole educatamente sulla sua sveglia e aspetto che apra gli occhi michaela si nasconde dietro la sveglia non capisco come hai potuto fare amicizia con un'umana sussurra michaela dal suo nascondiglio loro ci odiano beh rispondo facendo una pausa per rifletterci su credo di poter fare amicizia praticamente con tutti a patto ovviamente che loro vogliano fare amicizia con me sei strano isaia grazie ma preferisco il termine differente eli sbadiglia e apre un occhio michaela resta senza fiato e si accuccia dietro la sveglia ciao isaia mi saluta eli con aria sonnata dal momento che non ci sono tastiere a portata di zampa mi limito a sorridere e a salutare con le dita chi è questa tua graziosa amica mi chiede quando michaela fa capolino da sopra la sveglia gli amici di isaia sono miei amici le dice eli ora tocca a michaela sorridere e salutare con la zampa ma lo fa molto più timidamente di me avrete fame ragazzi eli fa dondolare le gambe giù dal letto e si infila ai piedi delle pantofole dall'aria molto soffice vediamo cosa c'è in cucina mia madre ha comprato dal panettiere dei cornetti alla crema michaela salta fuori dal nascondiglio e eli ha appena pronunciato la parola magica cuore di topo capitolo 41 le parole non hanno muscoli ma sono abbastanza forti da spezzare un cuore mentre michaela banchetta col suo spuntino di mezzanotte eile e io chiacchieriamo ho la sensazione che michaela ritenga il mio ballare sulla tastiera una prova ulteriore della mia stranezza dopo tutto lei non è in grado di leggere le parole che digito sullo schermo ma d'altra parte è probabile che non mi stia neanche guardando ha un intero cornetto alla crema da divorare e al muso sprofondato nella grassa come va a scuola chiedo un po meglio direi ogni volta che melissa mi chiama foruncolo le rido dietro buon per te e ho un insegnante d'inglese molto in gamba il signor randall gli piace leggere libri quasi quanto piace a me e tu isaia se sai scrivere immagino saprai anche leggere a meno che tu non sia solo un ballerino estremamente dotato che non ha la più pallida idea delle astrusità che sta digitando sullo schermo questo mi strappa una risata perciò la mia frase successiva è davvero un'astrusità ma subito dopo mi ricompongo e metto in versi una breve poesia i libri mi piacciono sono sincero con storie e figure mi piacciono davvero libri sui topi e su ciò che è accaduto libri su aili che ho qui conosciuto il punto esclamativo finale mi costa un'altra spaccata ma ne vale la pena quando michaela ha finito quel tanto di cornetto alla crema che il suo stomaco riesce a contenere e li mette il resto in un sacchetto di plastica ci dà anche un intero pacchetto di un qualcosa chiamato formaggio da sfilare assicuratevi di staccare la plastica prima di mangiarli ci consiglia quindi questo formaggio è fatto di fili invece che di latte chiedo no è solo filaccioso ma non potevano chiamarlo formaggio filaccioso altrimenti la gente poteva pensare che fosse fatto di caccole cos'è una caccola chiedo lascia perdere andiamo vi do un passaggio a casa così non dovrete preoccuparvi di incontrare di nuovo lucifero mette il sacchetto delle cibarie nella tasca anteriore della sua felpa poi si china sul comodino in modo che io e michaela possiamo saltare dentro al cappuccio la soffice fodera di cotone è un mezzo di trasporto comodissimo è molto gentile commenta michaela mentre la gravità ci spinge ad accoccolarci l'uno accanto all'altra all'estremità del cappuccio l'umano più gentile che abbia mai conosciuto sono d'accordo è diversa dalla stragrande maggioranza dei suoi simili ci rilassiamo crogiolandoci al chiaro di luna mentre oscilliamo dolcemente avanti e indietro è come tornare a casa a bordo di una maca michaela sospira soddisfatta si vede che è molto contenta siamo comodi al caldo e al sicuro michaela le dico ti dispiace se canto per te dopo tutto è normale che i topi cantino per le topoline soprattutto per quelle verso le quali hanno maturato un debole forse sono diventato davvero isaia il coraggioso non riesco a credere a quello che ho appena detto mi piacerebbe molto sentirti cantare risponde michaela il cui respiro è dolce come una torta di mele perciò intono la più bella canzone da topi che conosco c'è una cosa che ho dimenticato di dire i vari talenti che possiedo potrebbero avere cancellato alcuni degli altri talenti che avrei se fossi un topo normale per esempio cantare nel canto sono un disastro basta così ride lei dopo le prime note sgraziate tocca a me e così proprio lì nel cappuccio di eili michaela canta per me è un suono ultrasonico perciò e lei non può sentirlo ma io posso e come e alto e risonante ma allo stesso tempo dolce e commovente le parole sono semplici parlano del chiaro di luna e di come sotto la sua magia i giovani topi si innamorino e del fatto che l'amore sia in realtà la sola cosa che importi è celestiale meglio perfino di una torta di mele appena sfornata cuore di topo capitolo 42 cadi sette volte rialzati otto proprio la notte seguente stiamo entrambi cantando un'altra canzone lucifero ci sta di nuovo inseguendo questa volta dentro la casa michaela gabriel gallivere io formiamo una delle squadre di cacciatori di cibo notturni e naturalmente siamo michaela e io quelli cui lucifero sta dando la caccia credo ricordi il mio mantello blu di ieri sera e forse ricorda la coda riccioluta di lei perché dopo tutto era lui alle nostre spalle durante quella folle corsa attorno alla casa questa sera ci sono altre dieci squadre di quattro topi ciascuna che razzolano per la casa dei brofi perché qualche ora prima le nostre spie hanno scoperto che la famiglia sarebbe uscita a cena in un ristorante cinese all you can eat questo significa che gli armadietti la dispensa e i vari nascondigli segreti di spuntini sarebbero rimasti incustoditi james il saggio ha ordinato un'invasione della casa su larga scala ci aspettavamo di tornare nella tana con il cibo sufficiente per un mese dopo la disavventura di guindel con la trappola per topi parecchi di noi avevano paura di partecipare alle cacce al cibo ogni notte quindi il bottino di stanotte è molto importante per la nostra colonia quello che non ci aspettavamo era di imbatterci di nuovo in lucifero o che lui si dimostrasse così astuto spingendoci a scappare in un bagno ci ha intrappolato le pareti della vasca sono troppo scivolose da scalare quindi non possiamo scappare dal tubo di scarico il gatto è vicino al lavandino accanto alla porta in quella posizione blocca l'uscita e anche l'accesso al tubo di scarico del lavandino non abbiamo altra scelta che nasconderci dietro il gabinetto lucifero si covaccia e sorride riesco a leggere i suoi pensieri dietro quei torvi occhi gialli posso aspettare tutta la notte ecco fatto annuncia galliver siamo spacciati stai calmo soldato fa gabriel come posso stare calmo ci ha intrappolati intrappolati ti dico galliver potrebbe avere ragione il malvagio lucifero ci ha messo sotto assedio un assedio è una strategia militare nella quale il nemico ti circonda ti preclude le vie di fuga e ti blocca i rifornimenti ti priva dei beni essenziali come cibo e acqua finché sei obbligato ad arrenderti a meno che naturalmente anche tu abbia studiato le tattiche militari se dal caso che una volta io abbia letto un libro sulle strategie di un famoso guerriero francese napoleone bonaparte che tra il 1792 il 1815 condusse 34 battaglie perdendone soltanto sei un record eccellente la strategia di battaglia di napoleone si basava sul rapido movimento di un immenso numero di soldati i topi sono rapidi e nella casa ci sono già altri 40 nostri compagni in poco tempo potrebbero essercene di più un esercito tanto numeroso da spaventare anche il più mostruoso dei gatti mi rivolgo a michaila abbiamo bisogno che tu canti il richiamo di battaglia dei topi cantalo a squarciagola come hai fatto ieri sera ci occorre che ogni membro abile della colonia faccia irruzione in questo bagno ma te l'ho già detto isaia interviene gabriel michaila non sa cantare una topolina o sì che lo so fare ribatte michaila con fermezza meglio di qualsiasi topo io annuisco lei è più adatta a questo compito di qualsiasi topo maschio abbia mai sentito cantare impossibile sentenzia galliver niente è impossibile insiste michaila alcuni di noi sono beh differenti state indietro ragazzi michaila tira un profondo respiro e quando le esce di bocca la sua voce si libra in lungo e in largo il richiamo di battaglia è una canzone che tutti i topi conoscono che siano cresciuti in una tana o in un luogo orribile non la sintona molto spesso ma scatena un effetto immenso incredibile gli occhi di lucifero si spalancano come due ringo le orecchie gli si drizzano in testa si è decisamente accorto delle energiche vibrazioni ultrasoniche di michaila wow dice gabriel canti il richiamo di battaglia meglio di qualsiasi topo abbia mai ascoltato è anche più forte interviene galliver coprendosi le orecchie probabilmente ti sentono fino giù nella cantina della casa di fianco il piano è questo spiego infilandomi una zampa sotto il pelo della pancia per sembrare un po' napoleone e indovinate un po' napoleone aveva ragione di lì a poco terrorizzato dall'enorme numero di nostri soldati lucifero fa quello che fecero tutti gli eserciti sconfitti da napoleone scappa a nascondersi cuore di topo capitolo 43 a un gatto morso da un serpente fa paura perfino una fune avresti dovuto vedere come si è smammato quel gatto malefico digito sul computer portatile in camera di hayley io e michaila siamo tornati per farle visita e magari per farci di nuovo accompagnare a casa nel cappuccio red boy il gatto di hayley le salta in grembo e solleva il posteriore imponendole di carrezzare il punto magico davanti alla coda michaila resta bocca aperta quando il gatto fa la sua apparizione non preoccuparti la rassicura hayley red boy vuole solo un po di coccole non gli interessa mangiarvi a lui piacciono il salmone e quei biscotti per gatti a forma di pesce michaila si rivolge a me in questa casa è tutto davvero differente compreso il gatto di cosa chiacchierate voi due chiede hayley perché non può sentire le nostre parole ricomincio a digitare stavamo parlando di come è stato sconfitto lucifero almeno per ora forse non vorrà più fare il furbo con la nostra colonia a nessuno piace combattere quando le sue possibilità sono mille contro uno adesso sei un'altra cosa ancora esaia commenta hayley che immaginava avessi un simile talento come comandante in capo per festeggiare ti porterò un napoleone napoleone ancora vivo mi vedo costretto a chiedere no un napoleone è un pasticcino è simile al cornetto ma ripieno di crema pasticcera e rivestito di cioccolato michaila sorride radiosa e sbava pure un poco è michaila a meritarsi un premio del genere digito è stata lei a cantare a squarciagola il richiamo di battaglia ci hanno raggiunto topi dalle case di tutto l'isolato anche dalla tua cantina noi abbiamo dei topi se hai una cantina hayley hai dei topi lei fa spallucce non mi disturba magari uno di loro è un eroe come te sai ci sono dei topi famosi nel corso di tutta la storia intendi la storia umana perché nella storia dei topi ci sono solo topi e lì ride certo nella storia umana sai che il dio greco appollo veniva chiamato signore dei topi poi c'è il topo montato dal dio hindu sulla testa di elefante ganesh almeno nelle figure mi mostra la figura di un uomo elefante che cavalca un topo e l'unica cosa che mi viene in mente è povero topo e lì prosegue il suo elenco di topi famosi c'è topolino super topo jerry speedy gonzalez e stewart little e poi naturalmente almeno per me i topi più eroici in assoluto sono quelli che hanno salvato tante vite nei laboratori di ricerca la sola menzione di quella parola che inizia per l mi getta nel panico salto giù dal portatile attraverso di corsa alla scrivania e scappo più in fretta che posso fuori dalla finestra di eli cuore di topo capitolo 44 le pietre non hanno bisogno di proteggersi dalla pioggia vorrei essere una pietra dalla finestra mi lascio scivolare giù dalla grondaia attraverso il prato di corsa piombo nel boschetto continuo a correre finché non trovo un angolino tra le radici di un albero enorme dove mi gomitolo e a quel punto mi lascio andare a qualcosa che mi sono trattenuto dal fare sin da quando ho perso la mia colonia originale piango lascio che le lacrime svuotino tutto il dolore e la solitudine che mi sono tenuto dentro avete mai perso la vostra intera famiglia tutta in un colpo solo naturalmente spero di no se vi fosse capitato capireste quanto fa male e perché sento il bisogno di tenermi stretto e piangere povero eip povera winnie povero benji e poi ezechia maria rodolfo e zik singhiozzo io sono uscito ma voi siete ancora intrappolati nel luogo orribile a farvi torturare nel nel laboratorio ho detto la parola che inizia per elle la pronuncio ad alta voce mi fa tremare le membra e vibrare la coda o quanti incubi potrei raccontare su quello che avviene nel laboratorio quello che fanno a noi topi dovrebbe essere illegale forse è illegale ma ai lunghi camici del laboratorio non importa lo fanno comunque o sento dei rumori un fruscio tra gli arbusti non deve essere niente di buono potrebbe essere lucifero in cerca di vendetta peggio ancora potrebbe essere il signor brofi venuto a riportarmi al laboratorio dove lavora come uomo delle pulizie e custode delle chiavi mi raggomitolo ancora di più chiudo gli occhi non mi sono mai sentito così sperduto e solo isaia stai bene apro un occhio e gabriel windel galligan e goffrey sono con lui si sente un'altra voce isaia dove sei e eili in un lampo gli altri topi corrono a nascondersi sotto cumuli di foglie gabriel aiuta windel a rannicchiarsi dietro una pigna va tutto bene ragazzi interviene michaela uscendo dal cappuccio di eili e arrampicandosi sulla sua spalla questa umana è diversa scioccati per un attimo tutti gli altri topi ammutoliscono wow dice infine gabriel ha il pelo bianco come la neve intendo la neve bella prima che ci arrivino sopra i cani non è bella prosegue michaela ed è tanto gentile quanto graziosa stupefacente osserva gwindel ha degli occhi straordinari brillano di un fuoco di ghiaccio eili naturalmente non può sentire queste chiacchiere tra topi si inginocchia per parlare con me mi accorgo che si è portata dietro il portatile tutto ok mi chiede io annuisco per farle sapere che fisicamente sto bene una lacrima mi scende dalla guancia devo confessarlo sono davvero commosso che tutte queste creature si preoccupino per me corrono il rischio di avventurarsi nel prato di notte per venirmi a salvare forse non sono così solo al mondo come pensavo ho fatto una breve ricerca mi informa eli apre il computer mi mostra lo schermo era qui che vivevi isaia è il posto in cui lavora il signor brofi continua eli e non è molto lontano da qui la guardo negli occhi blu cristallo guardo i miei amici guardo michaela è il momento tiro un profondo sospiro e poi racconto loro la mia storia cuore di topo capitolo 45 quando racconti la storia della tua vita non permettere a nessun altro di danzare sulla tastiera salgo sul portatile in modo da poter raccontare la mia storia a tutti compresa eli mentre digito recito ad alta voce quello che scrivo sì il laboratorio di ricerca lamina è la sola casa che conoscevo prima che michaela fosse così gentile da invitarmi nella colonia dei brofi siamo felicissimi di averti con noi isaia interviene gabriel nessuno di noi ha mai mangiato così bene aggiunge gwindel o ha fatto scappare lucifero quel gatto diabolico dice michaela grazie mi è piaciuto molto trascorrere il tempo con tutti voi anche con te eli soprattutto se paragono la mia nuova vita alla vecchia al laboratorio il luogo orribile conducevano innumerevoli esperimenti su di me e sulla mia famiglia lo facevano perché potevano farlo loro erano grossi noi piccoli nel mondo degli umani il diritto sta nel potere il forte opprime il debole alla scuola media è lo stesso commenta eli ma alcuni di noi provano essere diversi tu eli sei l'essere umano più straordinariamente diverso che abbia mai conosciuto se solo ce ne fossero di più come te forse ce ne sono solo che non li abbiamo ancora incontrati dice eli possiamo sperarlo comunque al laboratorio mi hanno fatto diventare molto molto diverso credo mi abbiano dato un cervello più grosso un'intelligenza superiore immagino sia per questo che so leggere e imparare paroloni e fare tutte le altre cose che faccio mi hanno anche reso blu per potermi identificare facilmente lo stesso hanno fatto con i miei fratelli e sorelle hanno dato a tutti dei colori molto particolari perché potevano farlo non ci hanno mai chiesto il permesso per qualsiasi cosa volessero fare la facevano e basta perché potevano per quanto è durato chiede eli per tutta la mia vita finalmente un giorno abbiamo deciso che ne avevamo abbastanza mio fratello maggiore benji che è dieci volte più coraggioso di quanto io sarò mai ha escogitato un piano di fuga vedete al signor brofi quando lava piace tenere la porta sul retro aperta con un fermo così il vento asciuga il pavimento e non deve farlo lui il signor brofi è pigrissimo benji disse che dovevamo provare a scappare la prossima volta che il signor brofi lavava il pavimento eravate dentro delle gabbie chiede eli sì ma non di quelle con le sbarre le nostre celle erano più simili a scatole di plastica somigliavano molto ai contenitori sigillati dove i brofi tengono i loro avanzi nel frigorifero quelli sono facili da aprire con i denti osserva gabriel se si ha del tempo esatto esatto cosa chiede eli che non ha potuto sentire le parole di gabriel potevamo aprire un buco nelle pareti di plastica delle nostre celle benji disse che la mattina presto dovevamo tutti aprire un buco nel pavimento e poi coprirlo con dei trucioli di cedro e dal momento che i lunghi camici ci hanno reso tutti molto speciali avete tutti dei denti molto aguzzi conclude e eli annuisco come rasoi il buco che un topo normale riuscirebbe ad aprire in diversi giorni noi lo produciamo in un'ora lo abbiamo fatto la mattina dell'evasione quindi il signor brofi ha tenuto aperta la porta sul retro voi avete fatto un buco con i denti nelle vostre gabbie di plastica e ve la siete filata sì siamo scappati dalla porta posteriore ci siamo sparpagliati in 97 direzioni diverse in modo che i lunghi camici non potessero prenderci tutti io mi sono nascosto in un canale di scarico poi ho attraversato come un funambolo un cavo della luce sopra un vicolo pieno di bidone arrugginiti che puzzavano di uova marce è davvero straordinario commenta eli ce l'avete fatta siete scappati scuoto la testa no io sono l'unico a essere arrivato fin qui gli altri sono stati tutti catturati e riportati al laboratorio dove sono certo che adesso li tengono in gabbie d'acciaio con le sbarre impossibili da aprire con i denti sono prigionieri io sono l'unico libero gabriele guindel chinano il capo e recitano una preghiera silenziosa per la mia famiglia perduta michaela intona un incantevole nenia il tipo di canzone triste che si può ascoltare a un funerale ripete lo stesso ritornello caro dio dei topi possano i miei fratelli e sorelle trovare la libertà possano trovare la pace possano un giorno essere rilasciati mentre michaela canta mi rendo conto di una cosa i miei fratelli e sorelle non sono in grado di trovare la libertà non possono trovare la pace e non saranno mai rilasciati da chiunque lavori per il laboratorio di ricerca lamina no se voglio che le belle parole di michaela si avverino c'è un solo modo perché accada e all'improvviso ho un'illuminazione so cosa devo fare cuore di topo capitolo 46 i piani ben congegnati da uomini e topi possono funzionare davvero molto presto la mattina dopo appena prima dell'alba raggiungo eili nella sua stanza dalla finestra ho una vista eccellente sulla casa dei brofi e soprattutto sul loro vialetto eili è rimasta sveglia tutta la notte a fare ricerche con il suo computer ho dovuto cercare un bel po ma ho trovato un articolo su questo laboratorio lamina è un impianto leader nell'ingegneria genetica ed è stato indagato da umani per gli animali salto sulla tastiera esistono davvero persone del genere umani che si preoccupano di come vengono trattati i topi chiedo certo ce ne sono molti comunque l'upa ha condotto un'indagine segreta su questo laboratorio lamina ma quando hanno allertato le autorità locali e la polizia intervenuta sul posto secondo questo articolo nel laboratorio non c'erano topi né altri animali la giornata picnic cosa un giorno la scorsa primavera i lunghi camici ci hanno messo tutti dentro gabbie portatili e ci hanno portato a fare una gita in un posto tranquillo nella foresta dove c'erano alberi molto alti che profumavano di detersivo per pavimenti hanno messo le nostre gabbie sopra lunghi tavoli di legno ci hanno buttato dentro un po di formaggio e l'hanno chiamato un picnic quando uno dei lunghi camici ha ricevuto una telefonata di via libera ci hanno riportati al laboratorio l'intervento della polizia di cui ho letto è avvenuto in primavera ai primi di maggio annuisco e digito la giornata picnic ma anche se la polizia vi avesse trovato topi e ratti non sono protetti dalla legge federale sul trattamento degli animali come cani gatti e conigli perché no se ci pungete non sanguiniamo anche noi se ci fate il solletico non ridiamo se ci avvelenate non moriamo questo è shakespeare giusto esatto il signor shakespeare era un umano che di certo aveva capito come ci si sente a essere un topo esattamente alle 7 05 vedo il signor brofi uscire di casa dondolando e dirigersi al suo pick up ha con sé un sacchetto di carta molto voluminoso suppongo sia al suo pranzo che giorno è oggi chiedo a daily lunedì devo andare a scuola e il signor brofi l'uomo delle pulizie deve andare al lavoro credo possiamo ragionevolmente supporre che vada al laboratorio lamina tutte le mattine più o meno alla stessa ora sì di solito sento uscire il suo furgone attorno alle 7 poco prima che mia madre entri in camera mia a svegliarmi si sente bussare alla porta corro a cercare un nascondiglio ma la porta si sta già aprendo allora mi metto in posa sullo scaffale di hayley vicino alla sua collezione di strani bambolotti di plastica sua madre entra in camera hayley è ora di oh sei già alzata già entusiasta di andare a scuola puoi scommetterci beh buona sapersi ti vado a preparare la colazione dovremmo avere ancora un po di torta di briciole se posso avrei più voglia di porridge risponde lei visto che abbiamo divorato l'ultima briciola delle briciole durante la notte vada per il porridge sua madre esce torno di corsa sulla tastiera stasera quando il signor brofi torna a casa dobbiamo stabilire quanto spazio di carico c'è nel pianale coperto del suo furgone perché chiede hayley è venuto il momento di un'altra invasione napoleonica questa volta porteremo il nostro esercito di topi nel luogo orribile nel laboratorio cuore di topo capitolo 47 guardatevi dai cavalli di legno lunedì notte dopo la caccia al cibo io e gabriel andiamo in ricognizione corriamo rapidi lungo i margini del vialetto poi scaliamo le ruote infangate e i fianchi ammaccati del furgone del signor brofi sbirciamo dai finestrini della struttura che copre la parte posteriore del veicolo accidenti esclama gabriel in questo spazio ci starebbero tranquillamente mille topi forse anche duemila il mio piano è questo confermo mettiamo insieme un massiccio esercito di topi e lo nascondiamo nel retro del pick up del signor brofi andiamo con lui al laboratorio e una volta superati gli ingressi sorvegliati prendiamo d'assalto il castello il laboratorio è in un castello è una metafora o ne ho sentito parlare hanno un ottimo sapore scuoto la testa e proseguo questo pick up fungerà da cavallo di troia questa è un'altra metafora in realtà si tratta di una similitudine significa che scateneremo un attacco di sorpresa in modo molto simile a quello utilizzato dai greci quando attaccarono la città di troia che cosa fecero i greci costruirono un gigantesco cavallo di legno vuoto all'interno e ci nascosero dentro pochi soldati mentre il resto dell'esercito finse di ripartire con le navi i troiani credettero che i greci sconfitti avessero lasciato il cavallo come dono così lo trasportarono dentro le mura della città quella notte mentre i troiani festeggiavano la vittoria i soldati greci scivolarono fuori dal cavallo aprirono le porte della città e il resto dell'esercito greco si riversò all'interno distrussero la città e posero fine alla guerra di troia noi distruggeremo il laboratorio no ci limiteremo a liberare la mia famiglia ovviamente perché il mio piano funzioni mi servono topi molti moltissimi topi perciò gabriele io torniamo alla tana ed esponiamo il nostro piano all'intera colonia nella grande sala sotto il pavimento mi rivolgo alla moltitudine di topi impazienti amici miei utilizzeremo la stessa tattica di cui ci siamo serviti per sconfiggere lucifero nella battaglia del bagno inizio numero soverchiante attacco repentino nell'istante in cui il signor brofi aprirà la porta del laboratorio mille anzi duemila topi si precipiteranno fuori dal retro del suo furgone e faranno irruzione nell'edificio amici miei ricordatevi sempre che dalla nostra parte avremo il fattore cosa succede nell'istante stesso in cui un umano vede un topo grida risponde michaela e salta su una sedia aggiunge gwindel bene proseguo immaginate quanto forte grideranno e quanto in alto salteranno quando ci vedranno a migliaia un gigantesco rabbioso esercito di soldati pelosi e baffuti sto decisamente citando la folla o almeno quasi tutta gründel l'anziana insoddisfatta con la dentatura fasulla mi sta guardando in cagnesco alza una zampa la folla ammutolisce di regola noi non rischiamo la vita per degli sconosciuti annuncia tirando su col naso con un'aria sprezzante non sono degli sconosciuti rispondo sono la mia famiglia può darsi ribatte gründel ma non sono la nostra famiglia mi sento cascare i baffi ma non posso fare nulla di tutto questo senza tutti voi allora ragazzino blu non lo farai e ora fate il favore di disperdervi figlioli credo abbiate sentito parlare anche troppo il vostro cosiddetto fratello un momento grida gabriel saltando accanto a me sulla scatola di fiammiferi devo ricordare a tutti che questa colonia vive secondo una regola sacra non si lascia indietro nessuno beh direi che isaia ha più che onorato questa regola l'ha fatto e come aggiunge gwindle facendosi avalti zompicando con le sue stampelle anche quando altri erano pronti ad abbandonarli inoltre prosegue gabriel dovrei anche ricordare agli anziani che voi stessi avete nominato isaia membro onorario di questa colonia poco tempo fa gabriel si porta una zampa alla bocca per potermi sussurrare mostra loro il tuo medaglione non ricordo dove l'ho messo per fortuna è in questo momento che james il saggio si alza dal suo trono saponetta quel che dice gabriel è vero isaia è nostro membro e fratello di conseguenza la sua famiglia è la nostra famiglia si applica pertanto l'antico ditto non si lascia indietro nessuno andate tutti voi e liberate i nostri fratelli e sorelle imprigionati partiremo all'alba grido chi viene con me ogni singolo topo abile della colonia grida io nell'ascoltare queste meravigliose parole non mi sono mai sentito meno solo in vita mia cuore di topo capitolo 48 un topo dal cuore forte può sollevare un elefante michaila canta di nuovo per me beh non esattamente per me intona il richiamo di battaglia dei topi per chiamare a raccolta tutti i nostri cugini comunque io sono lì ad ascoltarla e credetemi è strepitoso i topi arrivano a radunarsi nella tana da tutte le case dell'isolato il mio primo luogotenente gabriel accoglie i nostri vicini prendete del formaggio amici e servitevi pure dei doritos di duane sarà una lunga notte ci muoveremo alle prime luci dell'alba dopo mezzanotte un flusso costante di nuove reclute esce a passo di marcia dal semi interrato percorre il vialetto e sale sul retro del furgone del signor brofi fortunatamente c'è un finestrino sul coperchio del furgone che diversi anni fa avrebbe dovuto essere sostituito da qualcosa di più resistente di un pezzo di cartone e nastro adesivo per la schiera di topi è facile scivolare uno alla volta attraverso la fessura e lasciarsi cadere sul materasso sudicio disteso sul pianale arrugginito e il da una mano caricando lo zaino e il cappuccio di topi e trasportandoli al pick up è un grande aiuto perché la poiana non si azzarda ad attaccarci con un umano così vicino quanto a lucifero non interferisce con i nostri movimenti perché è diventato il re dei fifoni deve essersi accorto del massiccio esercito di topi che si sta radunando nel ventre stesso di casa sua per questo sta passando la notte ben raggomitolato in cima al suo albero tiragraffi quando il pianale del furgone è pieno zeppo di topi e ili arriva da casa sua con una rete arrotolata l'ho trovata in garage papà la isa nel cortile sul retro per farci giocare a pallavolo ma se voi la utilizzate per farne un paio di amache sul pianale del furgone potete farci stare il triplo di vostre truppe annuisco entusiasta solo vi raccomando di restituirmela continua vorrei giocare a pallavolo questo fine settimana credo proprio di poterti battere isaia ho il vantaggio della statura sorridiamo entrambi verso le tre del mattino mi arrampico sul fianco del furgone per passare in rassegna la mia imponente forza di invasione grazie alla rete di eli al canto di michaela e al coraggio di tutti i topi di soborgilandia siamo 5.000 sto per saltare dentro e unirmi all'esercito quando gabriel mi tocca su una spalla e stavo pensando c'è bisogno che uno di noi entri nel laboratorio col signor brofi e ci invie un segnale ultrasonico quando la porta sul retro viene lasciata aperta non possiamo attaccare finché lui non lo fa ha ragione lo farò io rispondo sei sicuro perché vorrei offrirmi volontario scuoto la testa no gabriel è la mia colonia la mia vecchia casa so come muovermi all'interno del laboratorio probabilmente potresti intrufolarti nel laboratorio nascondendoti nel taschino della sua camicia o nella tasca posteriore dei suoi pantaloni dico io pessima idea non vorrai che il signor brofi ti si sieda sopra giusta osservazione vada per la camicia ora devo solo escogitare un sistema per arrampicarmi sul petto del signor brofi e infilarmi nella sua tasca senza che lui se ne accorga sono in gamba ma sono così in gamba cuore di topo capitolo 49 se ne hai la possibilità fai come il sole sorgi alla prima occasione sto sonnecchiando nel portabicchieri del furgone quando sento un rumore di passi e un brontolio devi comprarne delle altre luan oggi è rimasta una sola confezione di merendine o no devo essermi addormentato il signor brofi sta arrivando dal vialetto dritto verso la cabina del suo furgone dove mi trovo io col mio mantello blu elettrico in piena vista ha già la mano sulla maniglia se mi vede la nostra invasione finirà prima ancora di cominciare pensando in fretta vado rapidamente a nascondermi nella fessura tra il cuscino del sedile e lo schienale mi trovo giusto dietro l'aggancio della cintura di sicurezza quando il signor brofi apre la portiera e scivola dietro il volante lascia cadere un sacchetto di carta marrone sul sedile del passeggero gira la chiave d'accensione e percorre in retromarcia il vialetto siamo partiti dopo pochi rumorosi minuti di strada avverto un cattivo odore sembrano uova marce no non si tratta del signor brofi o di quello che ha mangiato a colazione dobbiamo essere vicini a quel vicolo disseminato di barili di rifiuti tossici che ho sorvolato nella fase traversata del cavo elettrico della mia fuga questo significa che ci stiamo avvicinando al luogo orribile i laboratori lamina devo farmi avanti e arrampicarmi nel taschino del signor brofi silenziosamente molto silenziosamente scivolo fuori dal mio nascondiglio il mio piano è di arrampicarmi con cautela sul sedile del lato passeggero avvicinarmi in punta di piedi alla spalla del signor brofi scivolare sul davanti della sua camicia da lavoro e infilarmi nel taschino anteriore destro che riesco a vedere nello specchietto retrovisore del pick up il che significa che anche il signor brofi riuscirà a vedermi mentre mi infilo nel suo taschino ok mi serve un nuovo piano mentre sto pensando lancio un'occhiata allo specchietto retrovisore esterno beh indovinate un po chi vedo è hayley sta seguendo il pick up del signor brofi sulla sua bicicletta il braccio del signor brofi si allunga verso il sedile del passeggero la sua mano sparisce all'interno del sacchetto marrone faccio un balzo indietro e resto immobile a zampe spalancate contro il lunotto dov'è il mio dannato uovo in sala moia trova quello che cercava lo tira fuori dal sacchetto e si ficca in bocca la viscida palla bianca la cosa non soltanto mi disgusta mi dà anche un'idea posso nascondermi nel suo sacchetto del pranzo invece che nel suo taschino il signor brofi non entrerà mai nel laboratorio senza i suoi adorati doritos per me è facile scivolare giù dal sedile e infilarmi di soppiatto nel sacchetto mi sistemo sotto la confezione di patatine senza sgualcire l'involucro di plastica il furgone si ferma giorno brofi dice una voce fuori dall'abitacolo giorno tom deve essere la guardia all'ingresso chi è la ragazzina in bici che ti segue chiede tom la guardia non lo so risponde il signor brofi mai vista prima in vita mia magari è una di quei fanatici di umani per gli animali dice tom sarà meglio che me ne occupi buona giornata anche a te tom ci stiamo di nuovo muovendo adesso sembra che indietreggiamo sterzando a sinistra il furgone sbatte su qualcosa rimbalziamo e rotoliamo alle mie spalle sento lo squittio ultrasonico di 5.000 topi spaventati stupida piattaforma di carico mugugna il signor brofi perché dovevano metterla qui spegne il motore del furgone e afferra il suo sacchetto del pranzo sto dondolando avanti e indietro andando a sbattere su un'altra di quelle viscide uova in salamoia ora capisco che stiamo salendo dei gradini arriviamo su un pianerottolo deve essere quella lastra di cemento dalla quale sono saltato giù appena uscito dalla porta sul retro winnie ape e benji sono solo a 5 forse 8 metri di distanza sul lato opposto di una spessa porta d'acciaio sento un tintinnio di chiavi stiamo entrando